Buon pomeriggio cari amici, in maniera spero abbastanza rapida in questo secondo video di oggi parliamo di UEFA Champions League, primo round degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Andiamo a dire che in questa settimana praticamente abbiamo avuto le prime quattro partite, iniziando ovviamente dal martedì 16 febbraio con Lipsia-Liverpool 0-2, Barcellona-Paris Saint-Germain 1-4, Siville-Borussia Dortmund 2-3, Porto-Juventus 2-1. Settimana prossima avremo il 23-0-2 Atletico Madrid-Celsi-Lazio-Bayern, il 24 Atalanta-Real Madrid-Mondje-Glavak-Manchester City. Poi i ritorni inizieranno dal 9 marzo con Dortmund-Siville-Juventus-Porto, il 10 Liverpool-Lipsia-Paris Saint-Germain-Barcellona, il 16 Manchester City-Mondje-Glavak-Real Madrid-Atalanta-Bayern, Monaco-Lazio-Celsi-Atletico di Madrid. Quindi, poi ovviamente, come sappiamo tutti quanti, i quarti, ovviamente saranno soggetti anche loro a sorteggio, come se non mi sbaglio anche, mi pare, le semifinali. Quindi, insomma, la Champions entra davvero nel vivo, quindi, dopo questo videoclip, noi ci lasciamo, ovviamente, che il nostro prossimo appuntamento, credo all'80-90% sia per domani, pomeriggio, massimo prima serata, quindi un resoconto più o meno sull'esame del modulo 4 della patente europea del computer, e penso che parleremo dall'anno e prima della puntata di domani di Friday Night Smackdown, che ricordiamo ormai da qualche annetto, ma in onda in America su Fox. Bene, io vi ringrazio a voi tutti, un buon proseguimento di pomeriggio e di giornata, e ci avviamo anche verso il fine settimana, quindi buon inizio di fine settimana a tutti, noi ci vediamo nei prossimi appuntamenti, te saluti, Frecd, ciao!